Quartieri al centro, al centro di un'idea, al centro di un progetto, idee proposte tante. Le abbiamo raccolte dai cittadini e oggi le portiamo al sindaco Francesco Rucco. A cominciare dalla sicurezza, perché non riportare il poliziotto di quartiere? Sì, per avere il poliziotto di quartiere è necessario avere molto personale a disposizione. I blocchi di questi anni hanno creato un numero inferiore di vigili di polizia locale, quindi stiamo lavorando con una serie di pattuglie speciali per i quartieri che magari un domani, quando riapriranno anche la possibilità di acquisire personale e comunale, potremo anche destinare nei vari quartieri. Nell'immediato risponderemo con le cosiddette pattuglie di quartiere, cioè le pattuglie che hanno l'attenzione giornaliera o settimanale su alcuni quartieri specifici della città, soprattutto quelli con più problemi. Ma la sicurezza, la vitalità di una zona passa anche dai negozi di quartiere. Sì, perché la gente ha bisogno di vivere le botteghe sotto casa, nelle frazioni, nelle zone residenziali. Su questo fronte, cosa sta facendo il Comune? Stiamo lavorando nei quartieri per dare la possibilità, come ad esempio abbiamo fatto rispetto agli esercizi pubblici, di avere dei plateatici che possano anche nei quartieri ospitare gente con le limitazioni Covid, oppure, in alternativa, aprire delle nuove aree pedonali, vedete Piazzetta Gioia, dove appunto c'è la possibilità di usare il passaggio pedonale anziché quello veicolare e quindi utilizzare per i pedoni anche l'accesso ai negozi di vicinato. E poi la cura delle strade, il miglioramento dell'illuminazione pubblica. I cittadini chiedono programmazione. Uno dei punti focali sarà quello dell'illuminazione, con 15.000 punti luce in tutti i quartieri. Alcune zone soffrono perché le reti sono collassate, andremo a cambiare anche quelle e quindi avremo nel giro di un paio d'anni al massimo una rete di illuminazione adeguata, LED e quindi anche moderna. Infine, se in centro storico l'età media della popolazione è sempre più alta, nei quartieri invece nascono più bambini e c'è sempre più bisogno di investire sugli asili e sulle scuole. Ho sicuramente investimenti sulla riqualificazione energetica, vedi nuovi infissi sul rifacimento dei bagni lasciati a se stessi che sono stati completamente rifatti. In tantissimi quartieri della città questo è l'intervento che abbiamo già fatto e continueremo a fare anche nel prossimo triennio di investimenti pubblici. La nuova epoca e il nuovo rinascimento deve ripartire da qui. Il dibattito è aperto. Alimentatelo, inviateci le vostre opinioni, le vostre voci. Partecipate alla costruzione della città che verrà. La questione dunque non finisce qui ma continua.